Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! È stato anche uno scontro tipo sparatutto e praticamente mi ritrovo qui, ora, senza possibilità, diciamo, di avere più possibilità di sbagliare, perché adesso si gioca seriamente e possiamo mirare. Ah, non mi fa, non mi fa mirare, ma vorrei anche capire il motivo. Ok, è un mouse sempre più sporco. Comunque, la cosa che voglio farvi vedere è questa, perché praticamente qui, all'interno, possiamo interagire non ancora con il telefono di servizio, credo, infatti avete la possibilità di chiamare a rifornimento o chiedere il trasporto dei prigionieri, ma abbiamo la possibilità di, qua ce n'è uno, qua c'è il magazzino con un sacco di roba sequestrata, tra l'altro abbiamo il tubo del gas, adesso mi prendo anche altre munizioni, un tubo del gas che mi potrebbe fare comodo, un pacchetto di sigarette che bisogna vedere se è contrabbando, perché le leggi cambiano continuamente. Qua abbiamo il posto di guardia, praticamente il nostro rango, il capitolo in cui ci troviamo, i prigionieri che abbiamo, uno su tre, il magazzino, la distanza che abbiamo percorso finora, il ricavo totale, le ispezioni corrette, le rate, merci di contrabbando, i vari eventi che ci sono, gli aggressori sconfitti, l'alloggio, il costo giornaliero di alloggio, magazzino, carcere e il costo personale. Tra l'altro potete anche andare qui e vedere l'alloggio, l'alloggio si può aggiornare e diventerebbe così, abbiamo la possibilità di andare avanti e vedere il magazzino e aggiornarlo, e così come la prigione aggiornata diventa più grande. Il personale, possiamo aggiornare il nostro personale, quindi passare ad esempio il caporale Maximo da una pistola a una mitagliatrice, e maggior salute insomma grazie all'antiproiettile e non la pettorina. Abbiamo l'agente Repnik, che anche lui passa mitagliatrice, è molto più armato, però ci costa comunque il doppio di stipendio. E abbiamo l'agente Moscovich, che non abbiamo ancora, ma che possiamo acquistare 250, che ci impedisce ai carcerati di fuggire. Abbiamo le auto, questo è il nostro mezzo, lo possiamo aggiornare, renderlo diciamo un po' più resistente e veloce, non cambia la capacità insomma. Possiamo comprare la volante insomma della polisca, possiamo comprare la camionetta. 8 prigionieri trasportabili, penso siano poi anche aggiornabili prigionieri, i due invece l'auto, però mi piacerebbe di più muovermi con l'auto. Questo è quanto si vede, che si può fare al momento. Ovviamente, Ligoracarov, vabbè. Ok, mi stanno cazziando perché non sto andando avanti, quindi noi ora dobbiamo mettere insieme tutte le conoscenze che abbiamo, quindi sia a livello di ispezione. Ok, attenzione, abbiamo regolamento, imbargo sulle merci, tutto quello che arriva da Rekkei non può passare. Merce, bagaglio e Regno di Rekkei, vietato l'ingresso. Ok, lettera di vettura, questo è quello che avevo c'era anche l'altra volta. Abbiamo un contrabbandiere a 52 anni. Questo è il colore del veicolo verde, che non è. E questo è Regno di Rekkei, un altro contrabbandiere. Ok, quindi, 52 anni, Rekkei, vediamo. Allora, posso vedere sui documenti? Anzi, dato che... Lo faccio scendere. Allora, vediamo un attimo. Viene dalla Regno di Rekkei, il nome corrisponde. La data di nascita, siamo nell'81, quindi a 30 anni non può essere lui. Il passaporto corrisponde. Scadenza non corrisponde, perché è scaduto. Quindi, tecnicamente... Allora, lui con i basettoni gli assomiglia. Quindi, tecnicamente, rapporto di ispezione, la fotografia c'è. Dobbiamo vedere la lettera di vettura adesso. Quindi, prendiamo questo, ma tanto le merci non possono passare, comunque. Però lui non ha carico. Non ha carico. Ma, ad ogni modo, non... Vabbè, ispezioniamogli anche il carico, perché... Ispezioniamo, scusate, l'auto, perché sai mai che ci sia qualcosina. Non ne abbiamo ancora trovata finora, ma non si sa mai. Apriamo il motore. Prendiamo un'occhiatina, se c'è qualcosa. Di strano. No, direi di no. Diamo un'occhiata anche alle gomme di qua. Vediamo. Non c'è niente che non torna, quindi... Ok. Comunque, non sta trasportando merci. Tuttavia, non va bene. Torna il tuo veicolo. Non può passare, perché comunque è scaduto. Quindi... Buongiorno. Abbiamo finito. Rifiutato. Arrivederci. Eh, mi spiace. Andiamo avanti in alto. Ok. Non mi ha detto niente su quello, ma penso sia giusto. Salve. Allora, vediamo un po'. 52 anni. Abbiamo... Ricapitolando. 52 anni. Veicolo verde? No. E il regno di archei. Allora. Scendo dal veicolo. Ok, corrisponde. Passaporto. Corrisponde. La scadenza. Due giorni ancora. Corrisponde. Lui direi che gli assomiglia. Ora diamo un'occhiatina alla sua auto. Perché? Ok. Qua non vedo niente. Il cielo dell'auto non nasconde nulla. Diamo un'occhiata anche qua dietro. Magari c'è qualcosa. Ma sembrerebbe di no. Gomme. Le gomme non nascondono nulla. Bravo. E direi che sei tutto a posto. Puoi risalire in auto. Non vedo niente di legale. Quindi direi che... Approvato. Buona giornata. Avanti il prossimo. Quello è un veicolo verde. Attenzione. Questi dovrebbero essere tutti... Allora. Perfetto. Ok. Salve. I documenti. Scenda subito dall'auto. Perché questo mi sembra un po' verde. E dovrebbe anche avere del carico. Delle capre. Ok. Però bisogna vedere subito se... Akai. No. Akaristan. Perfetto. Allora. Il nome corrisponde. Il numero del passaporto corrisponde. La data c'è. Quindi non ha niente che non va. Lui sembra... Non è lui. Perché la foto non è giusta. Qua dove non se ne hanno la mano. La fotografia non corrisponde. Tecnicamente ci sarebbero già gli estremi per mandarlo a casa. Tuttavia voglio continuare a dare un'occhiata. Perché vorrei beccare qualcosa. Allora. Le capre non le possiamo aprire. Questo ha una gomma mezza andata. Però vabbè. Attenzione. Eccolo lì. Questo è un conto a bandiere. Perché... Ma prima io faccio finta di niente. E gli conto le capre. Allora. Capra. Una. Due. Tre galline. E due capre. Perfetto. Ora metto via. Ho trovato qualcosa. Ma faccio ancora finta di niente. Confronto. Perché non voglio farlo scappare. Tre polli e due capre. Ci sta. Il carico ci sta. Tuttavia. Qua bisogna aprirlo. E non so come. Con questo. Questo. Eccolo lì. Abbiamo trovato qualcosa. Tra l'altro. La laccetta si è rotta. Quindi devo prenderne un'altra. E devo continuare ad aprire. Perché. Ho trovato cose molto belle. Salute. Ma voglio continuare la visita. Perché. Magari c'è anche dell'altro. Fammi vedere. Non sarei così stupido. Doverla. Sì. Un motore. Non vedo nulla. Ma voglio aprire anche dall'altra parte. Fammi mettere via. A continuare a vedere se. Qualcos'altro. Ok. Signore. Lo richiedo in arresto. Ok. Ne abbiamo preso uno. Che era quello che gli ha. Dovrebbe sparire adesso. Il. Perfetto. Stiamo forse diventando anche un pochino stanchi. Però va bene. Allora. Signore poliziotto. Mi liberi questa roba. Ok. Ci pensi tu. Adesso. Dovrei. Chiamare un altro. Però vedete che uno dei due è scomparso. Ci manca quello di 52 anni. Quello che arriva dal regno. Lì. Di. Erkei. Allora. Questo è verde. Eh no. Era quello di prima. Di 52 anni. Allora. Questo è verde. E questo è l'altro. Sta nero. Venga giù. Vediamo se è anche 52 anni. Dammi documenti. Ho documenti. Questo c'è. La validità c'è. È lui. Quindi ci sta. Qui è tutto ok. Ora. Qua dentro non c'è niente. Diamo un'occhiata anche qua dentro. Sul motore. Non vedo niente di regolare. Sul sedile non vedo niente. Sul cielo. Non vedo niente. Devo. Devo dare un'occhiata più a parte. Approfondita le gomme. Sperbatorio no. Le gomme no. L'altro serbatorio neanche. Allora iniziamo con l'inventario. Perché sicuramente se è una bolla di carico. Qualcosa. Magari potrebbe. Tu è un veicolo verde però. Quindi. Io voglio dare un'occhiata. Mi dice non c'è bisogno di toglierlo. E io invece lo tolgo. Allora nel water non c'è dentro niente. Fammi vedere il carico. Un frigorifero. E ok. Lavatrice 2. Quattro saponi. Una toilette. Nove di cemento. Il carico sembrerebbe anche essere giusto. Fatemi vedere anche l'età che ha sto tizio. Vediamo un attimo. Lui è del 53. Dove essere 52 anni. No. Non ha l'età. Però il veicolo è verde. Quindi io adesso. Voglio aprirlo. Perché. È un dovere fermarti. E vedere cosa c'è. All'interno. Mi scuserò se sbaglierò ma. Ok. Non c'è nulla. Vediamo se si può aprire questo. Mi serve il manganello. Ma il manganello è il ghello o no. Quindi. Proviamo con il tubo. Sapone. Sapone. Qua ci fanno pezzi. Se non trovo qualcosa. Abbiamo rotto anche il coltello. Ma all'interno non c'è assolutamente niente. Cazzo. C'erano anche questi. Mannaggia. Devo. Devo vedere se. Se c'è da qualche altra parte. Magari un. Vediamo se possiamo aprire con questo. Non serve un coltello. Vediamo se abbiamo. Qualche coltello. Perché. Sto rischiando una figuraccia. Devo darmi un coltello. Speriamo che ci sia. Sì. Eccolo qua. Meno male. Andare a fare un po' di spese. Ma non so ancora se mi daranno il giorno libero o meno. Per poterlo fare. Volevo mollare il servizio. Comunque. Il coltello. Apriamo gli ultimi pacchi di cemento. Ok. Niente. Lo mando via. Torno al veicolo. Lo rimettiamo. A bordo. Ma onestamente non so come rimettere la roba. Probabilmente devo dirlo a lui. Restituisci il carico. Beh. Noi ci stupiremo. Ma qua siamo in un'epoca un po' particolare. Quindi avergli distrutto il carico. Non porta a nessun tipo di problema. Abbiamo perso un sacco di tempo. Vai. Ma. Merda. Speriamo sia giusto. Perché se è sbagliato. La pagheremo. Eh sì. Abbiamo sbagliato ragazzi. Vabbè dai. Diamo l'accesso all'ultimo. Così finiamo. Poi quasi può leggere il giornale. E questo è il capitolo. Dove ci troviamo adesso. Ok. Scendo dal veicolo. C'è ancora il veicolo verde. È il regno di R.K. Salve. Mi dai documenti. Sì. Già che mi chiedi di dire necessario. Direi che di sì. Quel maledetto è che si intervetti di nuovo in questione che compieto. È della. Hai da dire qualcosa. No. Perché sono armato. Allora corrisponde. Vendetto corrisponde. È nato nel 53. Non corrisponde perché non è questo. 20 maggio ci sta. La foto gli assomiglia. Diamo un'ispezioncina alla macchina. Abbiamo trovato il tipo di prima. Probabilmente era lui. E quindi. Questo mi sembra abbastanza. Pulito. Nel motore non trovo niente. All'interno dovrei andare dietro. Vedere. Però mi sembra tutto abbastanza. Pulito. Quindi. Secondo me puoi andare. Ma. Posso anche ne parevarti. Sì. Non vedo niente che non va. Mi sembra anche abbastanza a posto. Quindi. Il controllo. Approvato. Vediamo come è andata sta giornata. Ma non credo benissimo. Perché non l'abbiamo beccato. Chissà dov'era. Eh. Bisogna essere bravi. Accurati. E fare tutto bene. Quindi vediamo adesso subito se. Intanto si è fatto tardi. Vediamo ma. Sì perfetto. Sì perfetto. È un momento per fare rifornimento. Liberare spazi in prigione o riposare. Quindi io posso. Niente. Posso mandare via col telefono i... No. Temporaneamente non disponibile. Va bene. Andiamo a dormire allora. E la mia baracca. No. Ok. Andiamo a dormire. Vediamo se evadono i tizi. Durante la notte. Controllo errato. Abbiamo perso un po' di soldi. Ma alla fine ne abbiamo fatti abbastanza. Quindi si ricomincia con un nuovo giorno. Io spero sempre ci sia il giorno libero. Così vado a fare un po' di spese. Se contrarremo dei bt. La partita viene persa immediatamente. Dovamo fare attenzione a questo. Ragazzi. Spero abbiate gradito questo secondo episodio di Contrabanda Pulissa. Così vi fate vedere che diciamo non è proprio così banalotto come gioco. Uno potrebbe pensare all'inizio che si faccia. solo questo. Ma in realtà si va anche in giro. Si fanno cose. Fatemi sapere sotto nei commenti. Alla prossima. E ciao ciao.